Lo vedete, lo vedete? Io mi preparo tutta, mi preparo tutta, tutta. Ma voi dite, ma ti prepari tutta, tutta per che cosa? Ma mi preparo tutta per ricevere l'amore. L'amore, quello con la A maiuscola, l'amore vero, l'amore vero. E quello che mi si sposa, l'amore vero mi si sposa, o anche quello che con me fa, un'unione di fatto. L'importante è che l'amore vero mi faccia fare un bambino, un bambino. Perché una donna si realizza solo dopo che ha fatto un bambino. Perché dopo che una donna ha fatto un bambino, il marito o il compagno suo deve provvedere all'esistenza sia della donna che del bambino. E ci deve provvedere sino alla morte, usco a morte. Quindi io mi preparo tutta, mi sto preparando tutta a ricevere l'amore. L'amore è quello vero però, quello che ti mette al dito l'anello, quello che ti mette al dito l'anello, che poi ti si porta pure all'altare. Poi io e il mio futuro lo vedo già, lo vedo già come in una sfera di cristallo, una sfera di cristallo, lo vedo già che mi dovrò separare dall'amore. Dall'amore vero mi dovrò pure separare. Ci faccio il divorzio, ci faccio. E lui mi deve mantenere, perché io gli ho dato almeno un bambino. Mi deve mantenere. E poi, casomai non si faccia il divorzio, non si faccia il divorzio, di certo l'amore mio muore prima di me. e mi lascia una bella pensione reversibile. Ancora ci sono le pensioni di reversibilità. E io vivo felice e contenta col figlio mio, col figlio mio, capito? E lo allevo come dico io. Certo che poi è il marito mio, lo vado a trovarci, mi dico, io porto pure i fiori. Io lo vedo il futuro mio, lo vedo. Per questo che mi preparo tutta, vedete? Che mi sto prepara tutta? Io mi sto proprio prepara tutta tutta, capito? Tutta tutta tutta, ma proprio tutta tutta tutta, capito? Tutta tutta, mi preparo tutta tutta.